Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo in compagnia di... Narcos, bella a tutti Ciao Narcos, forse è che lo conoscete, compagno praticamente fisso del mio canale Non solo su Youtube ma anche su Twitch, mi raccomando seguite su Twitch Tutto in descrizione, siamo in stream in questo momento, vedete quelli che mi sta lasciando il follow Perché lo fanno apposta Iniziamo il video subito spacchettando, perché come sapete il mio account non è maxato Il mio account non è per niente maxato D'altronde io vi ricordo che venerdì andremo in live su Twitch spacchettando 100€ 100€ non solo per trovare Semino, cioè Semino lo shoppiamo già di base Ma anche per shoppare le restante gemme in megacasse nella speranza di poter maxare l'account Detto ciò, ovviamente partiamo con la Big Box, così mi aumenta un po' la probabilità E poi dopo andiamo con la Mega Non troveremo niente, fisso, classico Ora andiamo di Mega e... Cosa ci porterà? Niente, zero A posto Qual è il video di oggi ragazzi? Oggi andremo a provare, dopo questa grandissima sfiga con due belle casse Il gadget di Bull Bull ragazzi ha un gadget che potrebbe essere considerato forte a prima... di primo sguardo Però fidatevi che non è tutta questa roba L'ho giocato un pochino e non è forte quanto inizialmente io reputavo Perché, ok, ti cura 1500 istantaneamente di vita ma al momento gira un meta che quasi sempre è anti-tank Girano delle jackie, girano delle emz, girano brawler che danno molto fastidio non solo ai tank ma soprattutto a Bull Bull fidatevi che è completamente fuori meta D'altro noi lo andremo a provare in questa mappa qua di Brawl Ball, nuova mappa E cercheremo di capire qual è l'utilizzo per questo brawler Ovviamente disconnettiamo quello che è entrato in vocale Lo disconnesso io Grazie mille E andiamo a provare questo brawler Let's go E qua io ti farei una precisazione Secondo me su Iced invece è davvero più con questo nuovo gadget Ok, posso appoggiarti su questa considerazione Su Brawl Ball non dico niente Come vedete raga abbiamo iniziato a registrare il video Bea e Max contro Sarà molto difficile per me giocare Se mi muovo bene però Qua utilizzo subito il gadget, ok? Come vedete è grazie al gadget che forse lo ammazzo Eh qua c'è il paccio contro Jackie Ok va bene Ok Sto un po' stupidi con Jackie Ora ho sprecato raga di utilizzi del mio gadget Ma era stato fatto per sopravvivere Ok Ora sono vivo Non mi devo far sgamare da Max Così appena avanza la sciocchiamo Aiuto su Jackie Ma Niente guardate raga Completamente anti-bull Anti-bull Ho provato prima di registrare questo video Una partita Due partite E vi assicuro Non c'erano queste comp così toxi D'altronde Ora vado a sinistra Provo ad andare contro Jackie E vediamo se riesco in qualche modo a gestirmela meglio Sarà difficile ragazzi Sarà molto difficile Ma noi ci proviamo lo stesso Ok Lasciatemi ragazzi nei commenti Le considerazioni sui gadget in generale Ma soprattutto su quello di Bull Come li reputate? Come credete sia questo gadget? Grazie mille Pony Ha spaccato Pony Perfetto GG Pony Let's go Buono 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 Non è toxicity Ho spinato per Pony Perché ha fatto una giocata bellissima Ora ragazzi Ho di nuovo Jackie nel mio lane Guardate quanto sta laggando il gioco Io ho ancora un gadget Me lo devo ricordare Ok Non mi è spartito il gadget perché vuole la palla Su un'ora goal Gadget? Perfetto Qua regalo Ottimo panite la dovrebbe passare Radio Siamo vissi Molto bene Andiamo avanti Non ce la faremo mai Quindi un attimo lo recuperiamo Io ancora due scudi di Crow Sto laggando Sto laggando stramale Vai 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 Cusci ora Usa lo scudo Buono il Crow Buono 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 Quello mi dovrebbe morire Ottimo GG Let's go GG GG bellissima giocata da parte nostra Molto molto bene E let's go A posto Ok Prima partita ragazzi del video Andata Eccala Guardate quante coppe Il mio muro ragazzi Peggio di così 666 coppe Non poteva andare Saluto Marseo Che in questo momento È collegato in live Sorry Marseo But I'm recording a video This is why I didn't say to you hi E continuiamo con la seconda partita del video E vi dirò All'inizio ho sprecato due gadget Probabilmente In modo non sbagliato Ma neanche corretto Perché alla fine sono sopravvissuto E ora cercheremo di utilizzarli meglio Cercare di non sprecarli subito allo start della partita E il terzo invece l'ho usato molto molto bene Ok Aspetto un attimo di Distrarre finché Rosa entri Niente sa che sono qua Bravo Mic Ce la fa Madonna è che rega Il gadget di Crow Non appena lo sblocco Aspettatevi un video Ma proprio subito Senza neanche che Voi lo chiediate Perché È un gadget Fortunatamente forte È qua Utilità Rosa è andata dritta per lì Ok Perfetto Perfetto Andiamo avanti Vado su Jesse Let's go GG GG Tana ha anche sprecato la ulti Avrebbe potuto grabbarci entrambi Ma niente Ok GG Seconda partita Andata bene Rega io mi aspettavo un video Completamente fallimentare Invece sta andando Meglio di quello che mi aspettavo Dopo a fine video Apriamo anche tre casse dai Dato che ne ho 13 piccoline Proviamo ad arrivare a 10 casse piccoline E vedere se sblocchiamo qualcosa Siamo contro Delle mie vecchie conoscenze Doctorize Ragazzi Un giocatore francese Vecchio Ora infatti lo saluto Guardate come spinnerà Esatto Avete visto Ok Perfetto Ragazzi quando incontro questi player Così vecchi Con la quale giocavo in beta Non c'è modo che io non spini Per salutarli Sono amici Prima di avversari Buonissimo Michele qua ha fatto la giocatona Ha fatto tutto lui Complimenti Ora basta spinare Ci concentriamo un pochino di qui Perché sennò il video diventa di Michele Non mio Ok Perfetto Qua devo utilizzarlo subito E vi dirò ragazzi Il gadget di Bull con un poco Diventa davvero tanta tanta roba invece Peccato che non ho avuto il tempo di utilizzare anche il terzo Se no rimanevo vivo e facciamo una doppia Ma no Peccato peccato Ok Ne ho un altro Un altro però Ci vediamo di utilizzarlo bene Ecco ho sbagliato il rush Però killo lo stesso là Ho un gadget Lo utilizzo Torno per indietro perché qua sono in due vivi Vediamo Michele cosa fa lì Buono 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 Mi passano per il gol Vabbè la posso a te Passo passo Eh ho passato male Colpa mia Ma è stai gol GG 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 Raga se usate Bull con lo scudo Con un poco dietro Con il gadget Anche questo non lo tirerete praticamente mai giù Complimenti Complimenti al nostro poco E comunque si è giocata molto bene Siamo a 7 minuti Quindi un'altra partita Subito 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 Alla fine Raga lo sto rivalutando Credevo fosse peggio Credevo fosse peggio Poi rega su Brawl Ball Modalità peggiore per Bull Non ve lo consiglio assolutamente Di giocare qua su Brawl Ball Assolutamente ragazzi Io ve lo consiglio su Ice Che è davvero qui sinceramente Bull su Brawl Ball Non lo vedrete male Grazie alla cura di Poney Davvero bravo Poney No Poney è un attimo Quello hai dovuto da dire riguardo C'è nita qua One Shot Se riesce a tirarmi una intina Che mi fa scappare Bravo Eh avrà il gadget quello Quindi aspettati il gadget Unita Non ha senso che io vado avanti Perché mi sciocco Quindi qua È muore Gadget Madò quel lorso Quanto è fastidioso Rega Il gadget di nita Probabilmente uno dei più forti Uno assolutamente Dei più forti Non c'è niente da fare Iguale a quel gadget Devono assolutamente fixarlo È davvero forte Ok Perfetto Io dover posso fare poco e niente Contra nita No Bravo Let's go Madò che giocatona di squadra Abbiamo fatto ragazzi Incredibile Let's go Vai a sinistra Vai su nita Se avessi avuto le bombe Quelle che immobilizzano Eh attenti che nita C'è il gadget Eh va bene Niente 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 Allora facciamo in un altro Non mi va di concludere Con uno sconfitto Facciamo in un altro Fast Qua riga niente Avevano completamente una comp Che io con Bull Non potevo fare niente Mi tenevano distanza Nita C'era niente da fare riguardo D'altronde come ho detto Mi aspettavo di peggio Da questo gadget Sinceramente Mi aspettavo di gran lunga peggio Però Piano piano mi sta convincendo Probabilmente solo perché Devo giocare di più ragazzi Sinceramente la ladder La gioco poco Dovrei pushare di più Dovrei giocare di più Preferisco fare degli scrim Rispetto alla ladder E alla fine È meglio per me Essendo un player competitivo Però se voglio Come dire Abituarmi a questi nuovi gadget Mi converrebbe giocare anche Molta più ladder Chissà se in un futuro Faremo un record Vedremo In teoria devo pushare con add Questa season Ma non mi ha risposto Quindi Mi sa che anche questa season Si butta all'aria Perfetto Ems ragazzi Ems un fortissimo counter Di bull Non solo di bull Ma di tutti i tank in generale Io neanche A grattarmi l'occhio Che lui mi tira la palla addosso Mi fa sgamare E niente Let's go Ok gadget Picura ragazzi Si entra dentro Puliti Non vi fermeranno mai GG Saluto tutti Vai pony Vai pony E la madonna Poverino Avrei visto quanto era Vagli ha tirato Gadget di jessi Ulti di ems Colpi di jessi Madonna Povero Guardate Lo lega ulti Perfetto da parte mia È un altro gadget Però E la madonna Poca vita Il mio coraggio Metto la palla avanti Vai Facciamo così Io sto provando a fare di tutto Eh segna quello Niente raga Sfortunatamente Terminiamo con due lose Peccato Stavo facendo delle giocate assurde In quest'ultima partita D'altronde Vabbè L'obiettivo non era vincere Non era fare coppe Ma come dire Provare un pochino Il gadget di bull Ditemi voi ragazzi Mi raccomando nei commenti Cosa ne pensate riguardo Questo gadget E niente Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi